Amici di Bob Gear, un saltino al Car Village Fassina in Viagrassi 98 va sempre fatto per come avere un salone di Ginevra, di Parigi, sempre a disposizione, è sempre lì e allora io oggi ho deciso che vado a salutare Raffaele Rella che Ciao a tutti, ciao Franco, sei uno dei più grandi esperti di questo marchio per il quale l'amore da sempre, avevi calzoni corti Allora Raffaele, dacci un panorama di cosa sta succedendo in casa Nissan, tante novità però tanti modelli talmente consolidati che sono mai diventati dei punti fermi del mercato Sì, partire da Juke, perfetto esattamente, la nuova Juke, il baby crossover di casa Nissan, è un segmento dove Nissan ci chiede parecchio È una macchina che Nissan l'ha creata per emozionarci, le sue linee, pensate vi do solo una chicca, il disegnatore di quest'auto è colui che ha disegnato la 370Z E la linea sportiva delle auto è una GTR che tu ben conosci e sei appassionato È una macchina che piace tanto anche alle donne, no? Soprattutto al pubblico femminile, sì, perché le donne si emozionano un po' più di noi rispetto ai maschietti e quindi Nissan ha colto proprio la linea giusta Vi ricordo velocemente quelle che sono le motorizzazioni, Franco, un nuovissimo motore 1200 turbo benzina da 115 CV, 4 cilindri Con consumi interessantissimi, per i più appassionati la possibilità di un bellissimo cambio automatico Quindi questo ci permette anche di risparmiare in termini di consumi, ma soprattutto anche in termini di rilassatezza Com'è questo 1200? È bello pepato? È bello, sì Quando è stato presentato hai detto, cavolo è la 1200, la macchina comunque ha dimensioni generose Sarà il motore giusto? È il motore giusto, pensate che lo abbiamo ereditato dalla sorella maggiore che è la Qashqai Quindi in termini di vendite i numeri sono impressionanti, però invito tutti coloro i dubbiosi a provarlo Lo proviamo insieme, saliamo e ci divertiamo insieme Il motore gasolio 1500, ormai collo adattissimo, la macchina da 20 km a un litro Con la possibilità anche di passare al GPL, volendo, un messaggio molto importante Partiamo da un prezzo d'attacco, giù che ve la proponiamo da 16.900 euro per il mese di gennaio Con delle promozioni con Nissan finanziaria, inclusi anche il furto incendio e vari servizi Ti faccio una domanda invece di carattere estetico cromatico Qui è esposta una bellissima versione total black, arrivo a dire a parte del cerchio che si può avere Però sono anche tante colorazioni, tanti mix di opportunità Sì, bravissima, è toccato un punto importante, la Juke la si può personalizzare La vogliamo gialla con gli specchietti neri, la vogliamo blu con gli specchietti bianchi I profili, gli occhielli, oppure possiamo anche personalizzare la parte dell'interno Come ben sai, Juke ha una bellissima console centrale, la vediamo insieme È il serbatoio di una moto, il calco del serbatoio di una moto Lo possiamo avere in giallo, in rosso, in bianco, l'ondra, come lo vogliamo L'importante è emozionarvi, venite qui, lo vediamo insieme, vediamo tutte le varie cose La si crea, molto bello Senti, saliamo un pochino in dimensione, insomma, qui abbiamo, io la definisco, una vecchietta gloriosa Nel senso che ha dieci anni di vita ed è ancora il riferimento del settore Dieci anni di vita, nasce nel 2007, l'abbiamo cambiata, l'abbiamo rimodernata, l'abbiamo creata ancora più sicura Abbiamo la possibilità, solo per i mesi di gennaio, Nissan premia i propri clienti con dieci anni di garanzia Abbiamo motore 1200 turbo benzina, come anticipato prima Franco, su una nuova Juke Cambio automatico, abbiamo il motore 1500 gasolio, il 1600 gasolio da 130 cavalli Con la possibilità, qua siamo un attimino un po' più agguerriti perché il DNA di Nissan è un 4x4 Con la possibilità di avere un ripartitore di coppia motrice, quindi l'E4 ruote motrice Perché è ancora riferimento? Perché è questa che è stata imbattibile per tanti anni E' ancora comunque la vettura che i concorrenti guardano per arrivare al successo di questa Qashqai? Beh, sicuramente Franco, in termini di vendita abbiamo toccato quasi 3 milioni di auto venduti Quindi questo è un punto di favore da parte di Nissan Siamo arrivati per prima, abbiamo sicuramente i termini di sicurezza Oggi abbiamo sempre una marcia in più Abbiamo il famoso, collaudatissimo sistema Safety Shield Che è questo scudo intorno all'auto Quindi anche per tutti coloro e per i propri familiari che vogliono viaggiare in sicurezza Come funziona? Ma il Safety Shield non è altro che questo scudo intorno all'auto Dove abbiamo i sensori di parcheggio a 360 gradi Le quattro telecamere, quindi una proiezione dall'alto Dove ci può far vedere tutto ciò che succede all'auto Come te, qua i quattro telecamere dove sono? Perfetto, sono posizionate sotto lo specchietto laterale Una e due di là Laterale e frontale sotto il logo Nissan Sì, sì, vai, vai, vieni Davanti al logo Nissan, eccola qua Eccola qua, perfetto E nello stesso punto nella parte centrale Ok, per cui a questo punto riesce a creare una round view Esatto, una round view dall'alto Quindi noi possiamo vedere tutto quello che succede intorno all'auto L'allerto oggetto in movimento Faccio un esempio banalissimo Siamo a fare la spesa Passa una signora con il passeggino Tu vedi immediatamente se c'è un oggetto che si sta muovendo nella parte posteriore Quindi abbiamo sempre la sicurezza per noi e i nostri familiari Che è fondamentale Il sistema anticollisione frontale, Franco Quindi la vettura fino al 70% della frenata naturale ci permette di Dove è posizionato quel sistema lì? È questo? In questa zona qua? No, quello lì è il riconoscimento della signetica stradale Perfettamente Ah, questo? Sì, quello ha un radar Ha un radar che è posizionato sotto paraurti Dove ti permette anche, perché la nebbia potrebbe essere un ostacolo Lui no, lui penetra anche la nebbia o comunque anche un accumulo di neve E potrebbe andare a verificare se c'è un ostacolo Quello della frenata da dove parla? Qual è la telecamera che utilizza? Sotto, è sul radar Non è una sonda, ma è un radar Quindi lui legge la distanza e ci permette fino al 70% della frenata naturale Interviene prima Interviene prima, esattamente Quindi su questa invece sono... Allora, su questa è imbattibile questo mese Da 19.900 euro Prezzo d'attacco, chiaramente partiamo dalla gamma 1200 turbo benzina Fin poi arrivare agli altri Però ti rubo 30 secondi perché Cascai non è solo un'auto per noi privati Comunque per qualsiasi famiglia Ma è un'auto che ha la possibilità anche della deducibilità fiscale Perché è possibile matricolarla autocarro N1 Quindi anche con il nuovo ammortamento, la nuova normativa che ci sarà per il 2017 Anche alle aziende mi rivolgo Cascai autocarro fiscale Quindi deducibile fiscalmente Finalmente qualcosa di... Esattamente Ci aiutino un pochino a lavorare e a godere dell'utilizzo di belle macchine Invece la sorellina maggiore, la sorellona La sorellona maggiore, la Nissan X-Trail Dove abbiamo la possibilità, sicuramente il DNA è del Cascai Però abbiamo la possibilità Facciamo vedere dentro perché ci si deve rendere conto anche del livello della qualità Sì, esattamente Franco Sì, la X-Trail prende un attimino un po' quello che sono le dotazioni ormai del DNA di Nissan Quindi giù che Cascai Qui abbiamo un vantaggio, abbiamo una vettura che è 4,63 metri, quindi molto più lunga Ma il vantaggio dov'è? Che questa è 7 posti Franco Quindi una famiglia più numerosa, altre esigenze Non è solo 7, puoi avere anche 7 posti? Anche 7 posti Sì, sì, sì La differenza sta proprio nella possibilità di avere anche i 7 posti Ma vuole estremamente ampio, insomma, molto modulare Poi con l'abbattimento Sì, ci sono 12 posizioni scomponibili per quello che sono i pianali Quindi abbiamo la possibilità anche di, con un solo gesto, di appoggiare, dividere i vani Sotto ci sono i vari portoggetti Certo, perfetto Per cui sicuramente è un mezzo veramente completo Sì, ecco qui per quanto riguarda il mese di gennaio Nissan ha fatto un'esclusiva promozione che riguarda le vetture in pronta consegna Quindi se riuscissimo a targarle per il mese di gennaio Abbiamo uno sconto importantissimo E abbiamo la gamma X-Trail nella versione full optional Da 26.950 euro Quindi, Franco, un prezzo importante Vi aspettiamo a provarla Fate test drive, emozionatevi Venite insieme a noi Che io e i miei colleghi del team Nissan Fassina Siamo sempre disponibili per ogni qualsiasi esigenza voi avete bisogno Va bene, senti, lì c'è un'amica Ancora in attesa il proprietario ma io credo che queste le fulminerete Perché adesso sta arrivando e presto la vedremo la nuova amica Che sarà completamente diversa Sì, un'auto completamente diversa Un'auto molto più lunga Toccherà circa 4 metri Abbiamo ancora qualche disponibilità Insieme a Fassina siamo riusciti ad avere queste quote Che tra gennaio, febbraio e marzo dovremo accontentare gli ultimi appassionati di questo prodotto Chi se la può portare lì e a quanto la prende? 8.450 euro È un prezzo importantissimo È un 5 porte È un motore 1200, 80 cavalli C'è un'offerta solo per il mese di gennaio Non facciamo pagare il GPL Quindi benzina e GPL allo stesso prezzo Quindi con 9.000 euro circa vi comprate la vettura nuova Con airbag, ABS, servo sterzo, radio, clima, telefono, bluetooth, chiavetta USB per interagire È un 5 porte vero, è un 5 posti vero ma è una micra Quindi parliamo in termini di sicurezza GPL è montato direttamente dalla fabbrica? Esce montato dalla fabbrica? Viene montato direttamente da Nissan in Italia Ok, perfetto In Italia, sì Viene resta di benzina o GPL? Tutte e due Tutte e due perché vanno veramente bene Siamo potenti, sì In termini di consumi non abbiamo problemi Ma è una macchina eccezionale Ok, senti, adesso ti ricarico perché è parlato per un'ora Sei instancabile, è molto bravo preparato La gancho mi come Robocop Per cui se avete bisogno venite qua per Raffaele e tutto il resto dello staff di Nissan Fassina vi aspetta Grazie a voi Sì, sì, siamo pronti Ricaricate un po' Sì, mi sto ricaricando Già full Sei già caricato l'occe? Pronto, già pronto 30 secondi Fantastico Indistruttibile Ciao ragazzi Ciao, ciao, grazie Ciao Ciao